Cari amici di Fede Cultura, ho la gioia di annunciarvi che finalmente ci è arrivato il tesoro della tradizione, la guida completa alla messa in latino. Tutto a colori, con immagini magnifiche, tradizionali, con spiegata passo dopo passo la bellezza, la meraviglia della messa tradizionale, la sua ricchezza, la sua profondità teologica e spirituale. È un lavoro fatto con grande amore da parte di un'autrice, Lisa Bergman, che mi ha aiutato, mi ha seguito passo dopo passo in questo grande lavoro. E credo che sia davvero uno strumento questo bellissimo libro con copertina rigida, con capitello, tutto a colori, con una carta di qualità straordinaria. Credo, dopo il messale, che sia l'opera più bella che abbiamo realizzato. E l'abbiamo fatta anche con un prezzo veramente irrisorio, che non dico che sia meno di quello che abbiamo pagato, ma poco ci manca. Ma l'abbiamo fatto anche grazie al sostegno di qualche amico che ha voluto diffondere la bellezza della messa antica, senza fare polemiche, semplicemente mostrando come la nostra fede, come la liturgia di sempre, sia davvero qualche cosa di affascinante, coinvolgente, santo, colmo di grazia. Questo libro ha la capacità di spiegare ad adulti e a bambini anche questo fascino. Le immagini, le opere d'arte che sono utilizzate e le immagini grafiche antiche, tradizionali che ci sono, che spiegano il calendario e i vari momenti liturgici, il mattutino, le lodi, la prima, la sesta, la nona, la compieta, tutti i momenti della liturgia sono veramente belli. E poi c'è un fantastico glossario che spiega e mostra come sono fatti tutti i vari oggetti liturgici, dal ciborio, la credenza, il crocifisso, cos'è la dalmatica, cos'è il corporale, quando è la consacrazione, cos'è il ciborium, cos'è lo stensorio, gli ordini minori, cos'è la patena, il pastorale, e via di seguito, tutto spiegato con una chiarezza cristallina, come devo dire, gli americani sono veramente bravissimi. Coraggio, lanciatevi anche voi alla scoperta e all'evangelizzazione attraverso il tesoro della tradizione.